Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e anche oggi nuovo video unboxing con Pacco Potteriano Super Pacco Potteriano perché è arrivato dai ragazzi di Mini Big World Collectibles che mi hanno fatto avere i due pop che desideravo tantissimo e che arrivano dal San Diego Comic Con di quest'estate sono uno il pop di Rita Skeeter e l'altro quello di Nagini entrambe esclusive del Comic Con quindi non vedo l'ora di aprirlo e di guardarli assieme a voi ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling a partire da oggi il mio codice sconto 7Potter che ormai conoscete tutti varrà non più il 15% ma il 20% quindi 20% di sconto su tutto il sito senza minimo di spesa utilizzando tutte le volte che vorrete il codice 7Potter ma adesso cominciamo subito col nostro unboxing e partiamo da questo pacco che mi arriva dall'ufficio stampa di Rizzoli è un volume che quando mi è arrivata la newsletter ho detto ok questo devo assolutamente farlo vedere sul canale perché secondo me è interessantissimo si tratta di un libro illustrato che è arrivato in libreria giusto il 17 settembre il giorno del mio compleanno e quindi non potevo non prenderlo ragazzi si tratta dell'edizione italiana questa è una copertina cartonata del piccolo Atlante di Anatomia è un libro che è arrivato in lingua inglese circa dieci anni fa e che finalmente Rizzoli è riuscito a portare in Italia e di cosa si tratta? come dice il nome stesso è un Atlante di Anatomia però è un Atlante che fa una cronistoria per immagini della medicina quindi si parte dal XV secolo quando non esisteva la fotografia e quindi gli artisti erano fondamentali per l'anatomia per ricreare disegni di organi interni di scheletro, di ossa e questi disegni venivano diffusi tra i medici e gli studiosi poi successivamente arrivò la fotografia e poi ancora più avanti fino ad arrivare alle tecniche moderne e proprio all'interno di questo libro sono riportate tutte queste tavole con dita schelie tutti questi disegni di anatomia ricordiamo uno su tutti Leonardo da Vinci che è stato tra i primissimi a effettuare studi di anatomia e a creare disegni fantastici che sono esposti nei maggiori musei del mondo guardate che belle queste immagini di anatomia sono davvero una più interessante dell'altra e man mano che si va avanti ecco che poi troveremo anche delle fotografie e del materiale più moderno e più dettagliato è una cosa che mi affascina tantissimo la storia delle scienze è molto molto interessante e questo volume qui direi che è assolutamente consigliato per arricchire una collezione o comunque per far parte di una libreria che è dedicata anche in parte alle scienze e non solo ai nostri amati fantasy ma ragazzi naturalmente per chi volesse maggiori informazioni tutto sotto in infobox trovate anche il link ad amazon dove lo trovate scontato secondo pacchetto invece l'immancabile ufficio stampa di Universal Picture Home Entertainment io saluto tantissimo Alessandra che mi sopporta ormai da anni con le mie richieste assurde e ragazzi ecco qui i nuovi arrivi di questo mese che vi voglio consigliare e si tratta di due Blu-ray uno è ragazzi l'aereo più pazzo del mondo io non credo che abbia bisogno di molte presentazioni sicuramente l'avrete visto in televisione è un film degli anni 80, del 1980 con Leslie Nielsen che ragazzi sicuramente conoscerete anche se siete molto giovani sicuramente avrete beccato dei suoi film in televisione questo è del 1980 quindi è anche più vecchio di me molto più vecchio di me e ragazzi l'avrò visto cento volte e il fatto che Universal Picture Home Entertainment l'abbia portato in edizione Blu-ray è davvero tanta tanta roba io non vedo assolutamente l'ora di guardarlo sono super super curioso di cosa parla in poche parole parla di un pilota che ha paura di volare e che si ritrova dove prendere il comando di un aereo quindi è un po' la storia di un disastro aereo ma davvero surreale e grottesca fa ridere tantissimo esiste anche un sequel che magari arriverà più avanti e poi invece l'altro Blu-ray è Unfriended Dark Web questo è il secondo capitolo di Unfriended è uscito nel 2014 mentre questo film qui è arrivato in Italia nei cinema nel 2019 in America invece nel 2018 è davvero molto molto promettente si tratta di un horror a sfondo tecnologico perché troviamo un ragazzo che all'interno del suo nuovo laptop trova una cartella questa cartella lo porta all'interno del Dark Web e lì scoprirà di essere praticamente perseguitato di essere tenuto d'occhio perché c'è qualcuno che vuole proteggere a tutti i costi il Dark Web senza guardare in faccia a nessuno quindi questo ragazzo il giovane protagonista e i suoi amici saranno in grave pericolo all'interno di questo Blu-ray troviamo anche tre finali alternativi tutti e tre promettono essere molto spaventosi naturalmente ragazzi trovate i link a questi due Blu-ray sotto in info box e li trovate naturalmente a prezzo scontato ragazzi detto questo adesso passiamo al nuovo pacco pieno di Funko Pop bisturi alla mano andiamo a tagliare finalmente il nastro di questo pacco spero di non rovinare il pacco anche se ragazzi di Mini Big World Collectables sono sempre super bravi super precisi nell'imballare e vi ricordo il mio codice sconto serie 5 per avere 5 euro di sconto su una spesa minima di 60 euro vi ricordo che sul loro sito potete anche recuperare i futuri quelli che stanno per arrivare pezzi del New York Comic Con quindi le prevendite sono già state aperte alcuni pezzi sono già esauriti però tenete d'occhio il loro sito e potete anche acquistare già i nuovi Funko Pop di Harry Potter quelli del Calice di Fuoco dove c'è Victor Crume Flair ci sono anche quelli della professoressa Koeman quindi trovate diversi Funko Pop molto molto interessanti che vi mostrerò a breve intanto ecco qui come vi dicevo super ben protetti i Pop del San Diego Comic Con e vediamoli da vicino io non vedevo assolutamente l'ora qui abbiamo il Pop di Nagini che mi piace tantissimo e poi abbiamo anche il Pop di Rita Skeeter entrambi appunto esclusive San Diego Comic Con costicchiano devo dire la verità costicchiano ma i ragazzi di Mini Big World Collectibles sono stati molto molto onesti con i prezzi in tantissimi di voi li hanno presi da loro me l'avete detto in privato su Instagram mi trovate Antonio.seria su Instagram e già in molti hanno prenotato i nuovi pezzi del New York Comic Con perché arriveranno Gaza con Mrs. Poore e poi arriverà anche il Pop da 6 pollici di Madame Maxime quindi ragazzi qualora foste interessati mi raccomando non perdete tanto tempo per acquistarli ed eccoli qui finalmente io direi di cominciare da Rita Skeeter quindi la tiro fuori dalla scatola e ne parliamo meglio ed eccola qui con la sua basetta sta tranquillamente in piedi da sola e ragazzi la scultura è davvero a livelli altissimi sono bellissimi gli occhiali è bellissima la piuma che tiene tra le mani la sua penna verde e poi dettaglio molto molto carino la catenella degli occhiali si muove è realmente inserita nell'asta degli occhiali quindi dettaglio super super bello è attaccata su di dietro e invece nei lati ecco che si muove il vestito è verde acido come nel film del calice di fuoco sono state stampate anche le calze a rete e il taglio di capelli è esattamente quello con i suoi boccoli biondi io devo dire che non trovo nulla da ridire a questo pop ha addirittura lo smalto sulle unghie quindi è davvero un pop che vi consiglio tantissimo di recuperare davvero molto molto bello e andrà immediatamente assieme agli altri miei pop sulla mensola alle mie spalle quindi sono super super contento di averlo preso approvatissimo il pop di Rita Skeeter ma adesso andiamo a guardare anche i naggini ed ecco qua anche i naggini è davvero bellissima ragazzi secondo me anche superiore rispetto al pop di Rita Skeeter nella sua semplicità è davvero molto molto elaborato perché sta in piedi da sola non ha bisogno del supporto visto che ha una base abbastanza larga il vestito è metallico ha questo colore metallizzato blu è scopito benissimo le frange ve le mostrerò più da vicino sono qualcosa di spettacolare si vede che fa parte di pop molto molto recenti perché prima erano davvero molto più semplificati e poi ragazzi i capelli i capelli sono esattamente quelli che abbiamo visto nel film sembrano spettinati sembrano un po' raffazzonati però devo dire che sono scolpiti benissimo danno perfettamente l'idea di questo personaggio leggermente trasandato quindi mi piace davvero tanto sulle guance è riportato anche una sorta di trucco ci sono una sorta di lentigini argente credo che stiano a rappresentare anche la sua mutazione il suo avere questa pelle strana particolare che diventa come quella di un serpente e poi troviamo anche questo sguardo con queste occhiaie e questo trucco molto marcato mi piace davvero tantissimo anche la posa che le hanno dato con le braccia incrociate come a volersi proteggere da qualcosa io lo trovo davvero uno dei pop più belli di Animali Fantastici anche se a distanza di due film non esiste ancora un pop di Credence questa cosa è davvero molto molto strana arriverà più avanti arriverà in uno dei prossimi Comic Con non lo sappiamo ma io ci spero tantissimo ragazzi questi erano i pop del San Diego Comic Con di quest'anno era presente anche quello di Fanny in versione floccata che è uguale a quello regular però ha il pelucco è tutta peluciosa e a me sinceramente non... è un bel pop mi piace tanto non dico che non mi è piaciuto però non ho trovato la necessità di prenderlo visto che possiedo già il Mystery Mini di Fanny che mi è stato anche regalato da uno di voi quindi per me va benissimo quello non ne sentivo la necessità però davvero gran bel pop anche quello sia in versione regular che in versione floccata ragazzi detto questo io chiudo il becco vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità e naturalmente ragazzi mi raccomando lasciate un mi piace commentate condividete il video con i vostri amici e noi ci vediamo prestissimo sempre qui sul canale ciao 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 Grazie a tutti.